E abbiamo fatto la proposta alle concessionarie autostradali utilizzando tra l'altro già una clausola che è prevista nelle convenzioni di innovare per la prima volta una formula di agevolazione a barra abbonamento per queste categorie. La proposta che abbiamo fatto e che dico è stata accettata oggi, ne abbiamo parlato in Consiglio dei Ministri e quindi accettata anche dal Consiglio dei Ministri da parte dell'Associazione Italiana Società Autostrade, è quella che per questa categoria di pendolari dal mese di febbraio per un periodo spendimentale fino al 31 dicembre 2015, quindi per un periodo sperimentale di due anni, venga applicata per la tratta massima, cioè per coloro che utilizzano per 20 volte al mese il punto a punto dei 50 km, venga applicata una riduzione della tariffa del 20%. Possiamo annunciare che dal mese di febbraio, attraverso un semplice utilizzo che è quello del Telepass, ovviamente questo tipo di categorie riceverà in tutta la rete autostradale italiana questa agevolazione che ci sembra una risposta molto importante perché non attutisce solo il 3,9% di aumento medio, ma inizia a diversificare e ad avere attenzione, questo su spinta del nostro governo, per quelle categorie che sono diverse da altre che utilizzano le infrastrutture pubbliche nel nostro Paese, i lavoratori, gli impiegati, gli studenti, quelli che sono obbligati o utilizzano il vantaggio che l'efficienza di una infrastruttura può dare.